Ciao a tutti, come ho detto già ad alcuni compagni, scusandomi per non essere riuscita ad essere lì, come dire, il corpo non ha retto, quindi non mi sento tanto bene, non ce l'ho fatta a salire su a Trento e anche all'iniziativa di Bolzano che c'era subito prima oggi pomeriggio perché appunto non ce l'ho fatta, ieri mi sono sentita poco bene siccome manca una settimana di campagna elettorale e vorrei provare a essere in me per questi ultimi giorni, soprattutto perché abbiamo anche il primo marzo, abbiamo la chiusura a Roma, abbiamo la conferenza in Rai, poi c'è la chiusura a Napoli, insomma ci sono tanti appuntamenti, avevo paura poi di non reggere, di non arrivare alla fine della settimana perché appunto ieri non mi sono sentita tanto bene, ora al di là di questi fatti personali miei, di cui immagino ve ne fregherà molto poco, io volevo soltanto appunto scusarmi per non essere riuscita a venire lì, dirvi che mi dispiace perché mi avrebbe fatto piacere perché per me la parte più bella di tutti questi mesi da quando è nato Potere al Popolo è stato proprio quella in cui riuscivo a farmi tutte le varie assemblee in giro, cioè il primo mese e mezzo in cui sono stata in tante città d'Italia a poter conoscere i compagni, a poter organizzare con loro le assemblee, le iniziative, quella è stata per me la cosa più bella, però insomma purtroppo come dire negli ultimi giorni ci siamo dovuti concentrare su altro, sulle interviste, andare in tv, io e anche tanti altri compagni sui vari territori perché ci dobbiamo far conoscere perché penso che il problema vero di questi ultimi giorni e l'obiettivo sia questo qui, io sono sicura che se le persone ci conoscono poi ci votano perché siamo persone per bene nel senso profondo del termine, nel senso che siamo persone oneste, siamo persone coerenti, siamo persone che portano avanti dei discorsi che sono dei discorsi che sono nel senso comune perché nessuno vuole lavorare a tempo determinato, nessuno vuole essere sfruttato, nessuno vuole non poter accedere ai servizi minimi, quindi come dire sono sicura che non appena ci conoscono poi ci vogliono bene e ci votano, di questo ne sono convintissime e quindi dobbiamo lavorare per questo. So che lì c'è Chiara che come sicuramente sapete è una compagna appunto anche lei napoletana dell'OPG e che si occupa dell'OPG delle questioni legate all'ambulatorio, al coordinamento dell'ambulatorio e al contrasto alla povertà e quindi io sono molto contenta che ci sia lei perché insomma è tanto più brava di me su tante cose e sicuramente vi potrà raccontare anche di tante esperienze dirette sul campo che stiamo facendo e che abbiamo fatto negli ultimi anni e che forse come dire può essere giusto e interessante condividere. Io mi rendo conto che parliamo di territori molto molto diversi e che quindi a volte questa è una cosa che mi hanno detto spesso, mi hanno detto sì va bene ma voi da Napoli non conoscete la realtà dell'Italia, di altri posti, di altre situazioni, che cosa volete andare a dire. Io penso che la forza di potere al popolo sia questa, quella di aver messo in rete situazioni, territori, organizzazioni diverse, storie politiche diverse. Penso che sia stata la cosa più bella, io l'ho notato fin dal primo momento e credo l'abbiano notato tutti quelli che erano al Teatro Italia fin da quel 18 novembre, dalla prima assemblea nazionale che abbiamo fatto. La nostra forza fino adesso è stata questa qui, quella di venire da storie diverse, di essere persone che avevano esperienze politiche differenti alle spalle ma che avevano tutte quante lo stesso obiettivo, quello di ricostruire la sinistra che per noi è anche ricostruire un senso comune rispetto alla solidarietà, all'antirazzismo, all'antifascismo. Non mi dilungo su questo, se ne è parlato fin troppo secondo me in questa campagna elettorale, hanno provato a giocare sugli apposti estremismi, hanno provato a ghettizzarci in ogni modo, credo che l'hanno fatto con me, credo l'abbiano fatto con tutti voi ogni volta che hanno potuto, che hanno avuto l'occasione, credo che sia stato un gioco molto sporco legato al fatto di non voler far venire fuori le nostre idee che sono potenti e invece di voler provare a fare un ragionamento speculare fra noi e Casa Pound, fra noi e Forza Nuova, che è inaccettabile perché sono le nostre biografie a essere diverse, ma è quello che facciamo tutti i giorni che è diverso, quindi è assolutamente inaccettabile. Io credo che però ci sia una cosa vera in tutto questo, cioè che noi abbiamo il dovere e il bisogno di ricostruire questo fronte antibarbarie che non è soltanto contro Casa Pound e Forza Nuova ma contro tante politiche che sono politiche di austerità, di compressione dei diritti, politiche che vanno contro le classi popolari. Penso che noi abbiamo il bisogno e la necessità di fare questo e che stiamo andando avanti molto bene. Io sono molto ottimista per il risultato del 4 marzo, faccio le corna perché sono anche molto scaramantica, sono molto ottimista perché ho sempre feedback positivi, sempre di più e sempre da persone, come dire, di mondi diversi, esterni, al circuito da cui io mi posso aspettare, di avere sostegno e di avere supporto, ma che invece vengono da contesti e da mondi appunto molto differenti, quindi sono estremamente ottimista. Credo che però la cosa più importante, al di là di come andrà il 4 e andrà bene, è continuare a lavorare su territorio e continuare con questa messa in rete, con questa messa in comune di esperienze perché lì veramente avremo vinto, avremo vinto doppiamente. Detto questo vi do un bacio, vi abbraccio, spero che ci potremo vedere molto presto e che quindi, come dire, potremo continuare insieme questo percorso anche conoscendoci di persona che è una cosa che a me farebbe tanto piacere. Vi saluto e niente, ci vediamo presto, un abbraccio.